Cose belle, uscita a novembre, o che abbiamo visto a novembre perché prima eravamo impegnati a fare altro Tipo? Therapy Musica, questo novembre lo vince Dua Lipa Posso dire? Posso? Mai stato best supporter della Dua Ma con Udini Yes, sudata Produzione Posso dire anche un'altra cosa? Non dirlo Io lo dico L'album di Spera e Basta Scherzo Taglia, mi è piaciuto Film Allora io ho recuperato Ninja Baby È una tipa che si accorge sei mesi dopo di essere rimasta incinta Non lo vuole questo bambino Non può abortire perché è fuori tempo massimo O minimo Massimo Molto ironico Qui c'è il bambino sotto forma di fumetto Terza voce Terza voce o seconda Madonna mia Invece film che ho visto a novembre perché è uscito a novembre perché prima non potevo farlo dato che non era ancora uscito Wow Dream scenario Uomo ordinario che inizia ad apparire nei sogni di milioni di persone È una bella critica sull'andare virali su internet Serie tv Ah The Crown Bello, sempre bello È come vedere tipo un reality Poi comunque stiamo nella situazione della signora Diana A noi piace, noi appassionati Bella Mi piace tutta Patriarchy Libri La vita è breve eccetera Di Veronica Raimo Una raccolta di racconti in cui si va a esplorare un po' la figura della donna inserita nelle relazioni Cosa bella, molto contemporaneo Copertina Doc Doc Che c***o è Doc Oh my god Perché comunque noi i libri un po' li giudichiamo dalla copertina Cioè io sì Fresco di zona Ci vediamo a gennaio Mazza Con i prefe di dicembre Basta I'm out